Oggi Megawar qui al mercatino dei bambini, fatevi sentire, dai! Andremo ad aprire 9 bustine di Destino al Paldea, chiederemo a 9 bambini qui e chi pulla meglio ovviamente si porta tutto a casa. Quindi adesso andiamo a distribuire le bustine sperando che non mi tagliano un braccio all'istante. Allora, buoni, non vi uccidete per scegliere le bustine, per favore, vi prego! Allora, distribuisco io a caso! Una, due, tre, non tiratele che si rovino le carte dentro! Uno e due, voilà! Tutti hanno le bustine? Tu ce l'hai, l'ho vista! Per favore, io chiamo uno alla volta, vi spostate tutti un po' più in là, quello che chiamo viene vicino a me, ok? Miami, vieni qui, vi spiego come funziona, ok? È una classica war, quindi chi trova la carta migliore in quella bustina si porta via tutto, anche le carte dell'altro, ok? Va totalmente a fortuna, io vi dirò qual è la carta più costosa guardando ovviamente su Car Market, quindi prezzi abbastanza reali, ok? Quindi adesso abbiamo qui un giocatore dei Miami, di nome? Enea! Ok, Enea! Puoi aprire la bustina, facci vedere, guarda, sotto la telecamera, guarda sempre che c'è qui la telecamera e tu apri sotto, così, bravissimo, perfetto! Fai vedere il codicino al pubblico e cerca di pullare, poi le carte le puoi buttare anche qua dentro, anche il codicino lo facciamo vedere, guarda, ecco qui, codicino per voi, la bustina la lascia a me, fai vedere sotto la telecamera, vai, scorri pure, scorri pure, benissimo, ok, vai! Pulliamo qualcosa secondo te in questa bustina? Dai, 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 c'è qualcosina! Eeeh, questa per ora è già un pull, Enea in vantaggio! Vabbè, era scontata la cosa, prima bustina! Allora, il primo pull c'è stato, quindi adesso lo mettiamo lì, avanti il prossimo! Vieni, benissimo, aspetta un secondo, ricordo siamo alla seconda bustina, te hai voglia di vincere o no? Ma innanzitutto, come ti chiami? Liam, Liam, apri la tua bustina e vediamo se sei abbastanza fortunato, puoi mettere! Sono più esperti di noi sicuramente! Fai vedere il codicino alla cam, bravissimo, perfetto, e butta tutto qua dentro, vai! Oh, attenzione, attenzione, qualcosa di buono, qualcosa di molto buono! Vai! Ai, 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 ed è la full art shiny! In questo momento Liam è in testa! Ai, 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 ragazzi! Allora, la vedi? La vittoria? La vittoria è in fondo al tunnel, no? Dai, più un carico, vai! Prossimo! Vieni, dai, vieni qui! Vai! Ricordo che sta vincendo la full art shiny, raga! Sì, non ha un grandissimo valore, però per ora già due bustine e due pull! Se continuiamo così stasera si scannano! Abbiamo con noi? Paolo, signori! Apri la bustina e facci vedere il codicino in cam, mi raccomando! Questo è il codicino che vi regala il nostro caro Paolo, butta dentro la scatola e fai vedere le carte! Il vincitore va anche a buttare la spazzatura! Eeeh! No, il perdente! Il perdente, quello che ha trovato la carta meno costosa! Sarai tu! Me lo sento! Nel cuore! Allora, abbiamo un Raichu, l'Apras e... e... non ci credo! La stessa, identica! Che cosa è appena successo? No, dai! Due i ex uguali! Eh, mi dispiace, hai pareggiato che poi in realtà comunque è in vantaggio alla full art shiny! Ete, stranito, raga, ma cosa sta succedendo? Prossima bustina! Allora, prossima bustina! Dai, vieni qui! Allora, te come la vedi? Innanzitutto chi abbiamo qui? Gianmarco! Gianmarco, come la vedi? Dai, tre bustine, tre pull comunque, eh, voglio dire questo! Quindi per ora, non male, ma tocca superare quella full art shiny! Cosa facciamo? La superiamo? Apri cuore! Vai, posa pure! Eh, tre su tre rare! Adesso tutto il rosso! Oh, ha fatto anche il trick, raga! È il primo, eh, che fa il trick qui! No, l'hai fatto anche a Paolo! Sì, l'hai fatto? Bravo, allora t'avevo visto! E dopo l'ho fatto anche io! Io non lo faccio! Io l'ho aperto semplicemente, non lo faccio! Eh, no, non lo faccio! Eh, no, non lo faccio! Eh, no, non lo faccio! Vediamo! Eh, non lo so, non lo so, non lo so! È un po' rischiosa, è un po' rischiosa! L'hai vista? L'avete vista? Ai ai ai! Ai ai ai! Ai ai ai! No, è niente, raga! Solo olo! Mi dispiace Gianmarco! Eh, a che bustina siamo? Commenta e lascia like perché non mi ricordo! Non lo so, quarta, terza! A che bustina siamo? Devi lasciare like e commenta! Quarta, ci commentano dalla regia, quarta! Comunque se non stiamo attenti veramente ci staccano le braccia, qui sono statanati, appena cacci le bustine Pokémon, demoniati! Dov'è la busta? Eh, guarda, lascia pure me! Io ho già iniziato a seguirti! Perfetto! Grandissimo, bravi raga! Seguite i Troi, mi raccomando! E lasciate like e commentate! Ho visto lo short dove trovate la carta di 600 euro! Lugia, Alternative, bellissimo, con Lugia è una bomba! Oh, bellissimo il Gengar, stupendo! Oh, e qua forse sai che ce la giochiamo? Controlliamo il prezzo! Car Market e Olo! Allora, adesso pausa, scusate un secondo ragazzi, pausa un attimo, controlliamo il prezzo per stabilire chi è avanti! Ma chi è che mi sta tirando calcio a manetta? Andiamo a scriverlo! Con concentrazione adesso! E adesso io... Il Grident 2,90! Il Grident 2,90 signori! Adesso andiamo a vedere anche il Foretress! Eh, mi sa che forse il Foretress è quello che sta di più, forse! Adesso 2 euro e... No raga, niente, il Grident sta vincendo, 2,90! 2,90 il Grident, abbiamo in testa il Grident! Prossimo! Allora raga, chi è aperto per favore un po' più compattati verso il di là, grazie! Molto grazie! Non baciare i 2 euro che sono sporchi! Ma non ho l'età! Non ho l'età! Dai, apriamo sta bustina, dammi sti 2 euro, te li tengo io! Ah, ho guadagnato 2 euro! Me ne vado con queste, scappa! Bravissimo, guarda lì, è un professionista, un professionista merita la vittoria! Vai, butta qui! Se pulla qualcosa! Oh, però per ora un Grident sta vincendo, eh! Attenzione! Shiny! Shiny, ovviamente! Niente! Niente, è vuota, mi dispiace, mi dispiace! Prossima bustina! Che abbiamo? I 2 euro, 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 scusami, eh, c'avevo lì, non è colpa mia, non li volevo portare a casa, dai! Ah, è vero, chi abbiamo? Matteo, Matteo, signor Matteo, ma quante bustine rimangono, raga? Chi c'è ancora la bustina? Tu? È lui, perfetto! No, no, Samuele lo conosco, per ultimo lui, mi dispiace dirlo, vai, si, Chinchou, Fanfi, Varum, Kirlia, bellissimo Gengar, sempre meraviglioso questo Gengar, oh, ma sai che forse, no, non lo so, non lo so, no, 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 niente, vuota! Abbiamo il prossimo, non dobbiamo ancora neanche controllare i prezzi, vabbè, sai? Riccardo, signore, Riccardo, apre la sua bustina, vediamo, ricordo che chi ha pullato peggio va avuta la spazzatura, eh, questa è la garanzia! Sono io quello che ha pullato un altro, sì! Vai, sì, abbiamo un fanfi, il Lapras, questo è roba brutta, vediamo, vediamo, Gengar? Oh, oh! Eh, mi sa che passa in vantaggio qui, eh, attenzione! Ahia! Eh, eh, eh! Ok, va bene, va bene! Check al bar, controlliamo il prezzo, andiamo a vedere sul nostro amato Carmarket! Ah, mi brucia, eh, brucia un pochino! Ahiaiai! vediamo vediamo 7 centesimi niente raga ancora il grid ent'avanti ma quando è una volta costava tipo ok ultima bustina e abbiamo hai perso te lo dico perché abbiamo mistra fortuna qui mi dispiace per te ma lui è devastante ha la fortuna più sì sì ma hai vinto inutile che speri questa è la colla ben accolato vai facci vedere la tua professionalità tiraci fuori questo sarebbe guarda come bufano guarda stanno bufando e hanno paura siamo hanno paura o però effettivamente qualcosa che sbluci che lo vedo magari la volo aspetta aspetta perché c'è calvar l'ultimo qui abbiamo abbiamo un'altra baby shiny decentrate tutte a beste raga o scusami foto male troppo i bambini qui non riesco a camminare allora signori se la rischiano qui qualcuno che sa la musica di chi vuole essere milionario per favore ci vorrebbe ragazzi aia vi la vediamo male all'ultimo samu mi sa eh aspetta aspetta o no 1 e 99 la prima ti ha fregato la prima perché la seconda stava 10 centesimi in più si di quanto ho perso di un euro perché la sua 2,90 te lo giuro 7 centesimi non me l'aspettavo neanche io ti giuro comunque allora facciamo vedere che qui ci metto tutte le carte effettivamente che abbiamo aperto facciamo vedere che chiudo le tb e che consegno tutto al vincitore possiamo vedere ovviamente che anche qui c'è tutto promozionale carte tutto quanto c'è raga tutto chiuso questo lo richiudiamo chiudiamo anche questo dov'è il vincitore di questa incredibile war tesissimo fino all'ultimo ecco a lei congratulazioni un applauso al vincitore bravissimo adesso vai dai signori questo è tutto lasciate like commentate ci vediamo nel prossimo video ciao ciao